Oggi parliamo di pazienza, un argomento che a molte appassionate di produttività e utilizzo efficiente del proprio tempo potrebbe un po' far storcere il naso. Invece, per quanto possa sembrare un po' off topic rispetto al tema di cui parlo di solito, vale a dire quello della produttività, sono convinto che la pazienza sia uno di quei principi un po' controintuitivi insieme al sonno, insieme al tempo vuoto, vale a dire al tempo passato, a rilassarsi, a dare spazio alla mente, che più influenzano la nostra produttività individuale, a mio avviso. Oggi ne parleremo con un ospite fantastico che ha scritto un libro interessantissimo e bellissimo che si chiama L'arte della pazienza, sottotitelato come essere perseverante in un mondo frenetico, ovvero Raffaele Gaito che faccio entrare adesso e grazie mille Raffaele per aver accettato l'invito e benvenuto. Ciao Simone, grazie a te per l'invito, per questa chiacchierata e ciao anche a tutti quelli che stanno guardando questa chiacchierata tra noi due. Grazie mille. Ascolta, io vorrei parlare di pazienza legandomi in qualche modo ai temi che sono stati toccati all'interno del libro, di cui hai benissimo descritto le caratteristiche principali nei vari capitoli. In particolare volevo farti alcune domande legate a tre ambiti principali. Il primo ambito riguarda la pazienza e i principi, quindi i principi che ci stanno alla base. Il secondo riguarda la pazienza e i fallimenti. C'è uno degli ultimi capitoli che parla proprio dei fallimenti che secondo me è davvero ben fatto e dà un sacco di spunti molto interessanti che aiutano a capire come ci possono essere utili nella nostra vita quotidiana. E poi pazienza e imprenditoria, un argomento che ovviamente sta a cuore di molti e spesso viene considerato come un concetto abbastanza distante dal tema della pazienza e vorrei appunto farti alcune domande rispetto a questo. Partiamo dal primo punto, pazienza e principi. Leggendo il libro sembra molto chiaro che il concetto ad alto livello è che la pazienza è sostanzialmente ciò che fa in tre aspetti, ok? E quindi sostanzialmente quello che importa è il processo. Non è tanto il risultato, non è l'outcome, ma è il processo. E un processo fatto di pazienza sostanzialmente consiste nella capacità di saper aspettare, di essere, come dire, paziente sul lungo termine ma molto attivo sul breve termine. Vuoi espandere un po' su questo concetto che poi sostanzialmente è il tema cruciale? Sì, sì, volentieri. Il libro, diciamo, cerca un po' di... Se vogliamo di... La pazienza negli anni si è fatta un po' una brutta nomea, mettiamola così, secondo me. E il libro cerca un po' di smontare questa brutta nomea che si è fatta la pazienza. Perché dico una brutta nomea? Perché molte persone, quando pensano alla pazienza, la percepiscono come qualcosa di passivo, no? La persona paziente è quasi spesso associata a una persona che è tranquilla, che è moggia, che è innocua, ok? Mettiamola così. È un'immagine terribile della pazienza, no? La pazienza non è una persona con le braccia incrociate che non si incazza. Assolutamente no. La pazienza che racconto io, la pazienza che cerco di descrivere all'interno del libro, è invece un qualcosa di molto, molto attivo. Come dicevi tu, non è tanto il sapere aspettare, ma è quello che facciamo mentre aspettiamo. Le persone pazienti sono persone che sanno che per raggiungere i loro obiettivi ci vorrà tempo, e nonostante questo sono perseveranti, ogni giorno lavorano per raggiungere quegli obiettivi. Io parto con un progetto, che sia imprenditoriale, ma che sia di qualsiasi altro tipo. Magari so che i risultati li vedrò fra due anni, fra tre anni, fra quattro anni. Sono una persona paziente, se nonostante questo obiettivo sia così lontano da oggi, riesco a lavorare sodo ogni giorno per arrivare a raggiungere quell'obiettivo. Infatti nel libro dico un po', diciamo, i due punti alla base, fondamentali, legati alla pazienza, che ritroviamo in tutte le storie di successo di imprenditori, sportivi, artisti e chi più ne ha più ne metta, sono il focus sull'obiettivo e l'amore per il processo, come dicevi tu prima. Tutte le storie che ti puoi leggere, qualsiasi biografia di personaggio di successo, in qualsiasi ambito, in qualsiasi settore, vedrai sempre queste due cose, queste due caratteristiche. Cioè sono persone che hanno il focus sull'obiettivo, significa sanno dove stanno andando, ma soprattutto hanno l'amore per il processo. E l'amore per il processo è poi quello che fa la differenza, no? Perché quella parte della storia, che è poco figa, è poco cool, non c'è nulla da raccontare, è la quotidianità, è il day to day, no? È il lavoro operativo, manuale, che fai tutti i giorni per avvicinarti a quell'obiettivo. Sono i passettini, sono i mattoncini che metti lungo la strada per raggiungere quell'obiettivo. Nel caso di uno sportivo è il duro allenamento che fai tutti i giorni per le Olimpiadi, per la partita importante, per la finale e così via. Nel caso di, che ne so, un imprenditore è il lavoro che fai tutti i giorni nell'assumere persone, chiudere contratti, andare a dei clienti, eccetera, eccetera. Se fossi un musicista è la gavetta che devi farti nei pabbettini di quartieri prima di arrivare a suonare nello stadio di fronte a 50.000 persone e così via. Ecco, queste due caratteristiche sono tipiche delle persone, diciamo, uomini e donne di successo, successo, qualsiasi cosa significhi per voi, nei settori più disparati. Assolutamente, assolutamente d'accordissimo. Ed è un angolo, secondo me, molto diverso, ma molto, molto interessante, perché davvero cambia completamente il modo in cui quartiamo questo concetto, che è molto spesso, appunto, confuso, come hai detto tu all'inizio. Ascolta, nel libro racconti un sacco di storie differenti, un sacco di aneddoti fantastici, tutti super interessanti e tutti, ovviamente, legati al contesto del capitolo all'interno del quale li inserisci. Ce ne sono alcuni che sono stati super interessanti, però quelli che mi hanno affascinato, se non altro di più, sono stati quelli che hai tratto dalla tua vita personale. Ce ne sono un paio che mi hanno davvero colpito. Uno è la storia che hai raccontato rispetto al colloquio di Google, che poi, appunto, riprenderemo tra poco, quando parleremo, appunto, di fallimento. E l'altro che è alla fine del libro. Parli, fai questo aneddoto, racconti questa storia legata agli alberi di Ulivo, se non ricordo male, no? Che hanno bisogno di 3-4 anni per crescere. Tu, sostanzialmente, se non mi ricordo male, tu fai riferimento alla tua famiglia, ai tuoi nonni, se non ricordo male, che hanno, appunto, impiantato questi alberi e, comunque, per anni, sostanzialmente, hanno dovuto accudirli e starci dietro senza vedere, appunto, il benché minimo risultato. La pianta non stava crescendo, sostanzialmente. Però, dopo anni, tu vedi il risultato che arriva. Ma quel risultato lì è soltanto il frutto e la conseguenza di tutta una serie di sforzi che sono stati fatti nel corso del tempo, anche quando tu non necessariamente hai ricevuto una gratificazione immediata che, in quel caso specifico, potrebbe essere il fiore, potrebbe essere l'albero. Rispetto a questo punto, mi affascinava molto capire tu, come interpreti nella tua vita personale, questo concetto, come lo applichi. Qual è il tuo albero di Ulivo? Qual è il tuo albero di Ulivo personale? Guarda, quella finale, ovviamente, è un po' una metafora, no? Perché secondo me era una rappresentazione perfetta e anche molto forte come immagine di quello che io avevo raccontato all'interno del libro. Quindi è un po' la conclusione, perché è anche, in un certo senso, il riassunto di quello che io voglio trasmettere. Dico, un contadino, quando pianta un Ulivo, se ne prende cura per anni, e l'Ulivo ci metterà tantissimo tempo prima di dare i suoi frutti. E questo è un atto di pazienza, è un atto di fiducia, è un atto di fiducia nel futuro. Nel senso, tu lo pianti oggi, te ne prendi cura per 5-10 anni, senza vedere manco una singola oliva, e sai che i frutti arriveranno, lo sai che arriveranno, non sai ancora quando, ma nonostante quello, tutte le mattine tu vai ad innaffiarlo, vai a sistemarlo, a potare, eccetera, eccetera, a prenderti cura, no? Lo coltivi. Ecco, secondo me questo è il gesto, per eccellenza, che rappresenta la pazienza. Ovviamente, prendiamo questo concetto e caliamolo nella vita privata, nella vita lavorativa, e nel mio caso nella vita imprenditoriale, il concetto è un po' la stessa cosa, no? Quindi quello di, quando parti con un progetto di qualsiasi tipo, esso sia, nel mio caso, magari un progetto imprenditoriale, avere quella capacità di continuare ad essere costante, lavorare sodo, nonostante non stai vedendo i risultati, nonostante sai che non c'è niente di immediato che ti dia quella, come dicevi tu, quella gratificazione istantanea, che magari ti permette, no? Di un attimino cullarti sugli allori. Questa è una cosa che non sempre le persone riescono a fare. E, ripeto, non vale solo nell'imprenditorialità, vale dappertutto. Che ne so, se tu domani ti iscrivi in palestra, per fare un esempio completamente diverso, non puoi pretendere dopo due settimane, vai dal personal trailer e dici, senti, sta palestra è una fregatura, io mi aspettavo di vedere gli addominali, gli addominali non sono ancora usciti, me ne vado, mollo tutto e torno a fare la vita di prima. Cioè, sarebbe folle un approccio del genere, no? Il personal trailer dice, ma tu sei pazzo? In due settimane che risultati volevi vedere? Vieni qui tutti i giorni, lavora sano, allenati, mangia bene e magari tra un anno, tra due anni, ti farò vedere i risultati che avrai sul corpo, ma anche sul benessere e tutto il resto. Ecco, su me è questo il messaggio, no? Quindi, l'esempio dell'ulivo è questa roba qui. Io cerco ovviamente di applicarla, nel mio caso, nel contesto lavorativo, nel contesto imprenditoriale, quando parto con un nuovo progetto, quando ho un'idea per una nuova iniziativa, se devo lavorare a un nuovo prodotto e così via. Ma a mia volta, facendo anche tantissima formazione, quindi ho clienti e studenti un po', diciamo, in tutta Italia, nei settori più disparati, è quello che cerco di trasmettere anche agli altri. Perché a volte è molto facile farsi fregare da quel concetto, adesso arriva il consulente, no? Arriva il coach, arriva il guru, schiocca le dita e mi trasforma il business, mi trasforma l'azienda, no? Perché c'ha la formula magica, perché ha la ricetta universale. Non è così, non è così assolutamente, no, sarei bugiardo a vendere una cosa del genere a un mio cliente o a un mio studente. Quindi questo messaggio, in realtà, è quello che cerco di trasmettere anche agli altri. Iniziamo un percorso insieme, all'interno di questo percorso, no, vedremo magari dei piccoli risultati lungo la strada, ma i grossi risultati aspettateli nel tempo. Però devi essere paziente, devi essere costante, cioè nonostante tutto, continuare a lavorare perché sai che un giorno raccoglierai i frutti di quello che hai seminato. e credo che questa cosa sia, come dire, una roba che puoi estendere veramente negli ambiti più disparati, no? Perciò prima dicevo dall'atleta al musicista, all'imprenditore, al manager, e così via. Sono cose che, ovviamente, io discuto quasi sempre nell'ambito della vita professionale, ma secondo me possono essere benissime applicate anche nella vita personale. assolutamente, assolutamente sì, d'accordissimo. Tra l'altro nel libro fai riferimento al ciclo della pazienza, che sostanzialmente è una specie di flywheel, no? All'interno del quale ci sono sostanzialmente quattro fasi, elementi fondamentali. Il primo è quella dell'abitudine, il secondo è quello degli obiettivi, poi la sperimentazione e poi il fallimento. Ora ti faccio una domanda difficile, ma immagino che, insomma, risponderai in maniera neutra, ma c'è una di queste fasi che secondo te è più importante delle altre, se non altro, c'è una fase che a te piace di più delle altre? Allora, ti rispondo a entrambe le domande. Quella che mi piace di più è quella degli obiettivi, quella più importante è quella delle abitudini. Perché dico così? Quella delle abitudini è il primo step, no? Quello è un, io lo chiamo ciclo perché quello a tutti gli effetti è proprio un ciclo, è proprio un loop. E quindi tu parti a lavorare sul primo, il primo ti porta al secondo, il secondo ti porta al terzo, il terzo se lo porta al quarto e così via, ricominci da capo, no? E in un certo senso è il mio modo di dare poi al lettore e alla lettrice dei consigli pratici su come allenare questa pazienza. Allora dico, ok, allora se vuoi farlo, se vuoi portare un cambiamento sano all'interno della tua vita, lavoro su questi quattro elementi. Non è come se io smontassi la pazienza in quattro componenti. Quindi direi che il più importante è sicuramente quello delle abitudini. Perché? Perché è il punto di partenza. Nel senso, se non hai lavorato bene su quella parte lì e quindi capito cosa sono le abitudini, capite come si formano le abitudini, come si eliminano magari quelle negative, come si modificano e così via, tutto il resto ti viene difficile farlo. Invece, se sblocchi il primo è una sorta di effetto domino, no? Poi lavori sul secondo, sul terzo, sul quarto e così via a catena. E poi invece alla seconda domanda, quindi quale mi piace di più, io sono un grande fan del capitolo sugli obiettivi, in generale proprio del tema degli obiettivi. È una cosa sulla quale lavoro tantissimo anche con le aziende, i miei clienti, quando dobbiamo fare dei progetti insieme. Per me gli obiettivi sono proprio fondamentali. Molto spesso quello che manca alle persone, a imprenditori, a imprenditrici, manager, professionisti e così via è proprio quello. È l'incapacità di definire bene gli obiettivi. Ed è strettamente collegata proprio alla nostra capacità di allenare la pazienza. Prima abbiamo parlato, la pazienza è quella capacità di lavorare nel lungo periodo, di sapere che arriveranno i risultati fra qualche anno, eccetera, eccetera. Ma tu questa cosa non la puoi fare se non hai fatto un buon lavoro di definizione degli obiettivi. Infatti nel libro parlo di quanto sia importante definire se gli obiettivi nel breve periodo che gli obiettivi nel lungo periodo. Abbiamo bisogno di entrambi, perché gli obiettivi nel lungo periodo sono quelli che appunto ci danno la visione, se vuoi. Ci dicono io sto andando lì, fra cinque anni mi vedo lì, vedo lì il mio progetto, vedo lì la mia carriera, vedo lì la mia azienda, il mio team e così via. Dall'altro lato invece l'obiettivo nel breve periodo ti dice cosa devi fare domani. Certo, fra cinque anni sarà lì, ma come ci arrivi? Qual è lo step che fai domani? E quale dopo domani? E quale la settimana prossima? Se vuoi è una parte un po' più visionaria, una parte un po' più concreta. E abbiamo bisogno di entrambe. A volte hai delle persone che sono estremamente brave sul primo aspetto e quindi sono dei visionari, hanno perfettamente chiaro in mente dove stanno andando, sanno dove si vedono fra cinque anni, come vogliono cambiare il mondo e così via, ma poi gli manca la concretezza di mettere in piedi questa roba, trasformare la visione in un piano. Altre volte invece hai il contrario, persone che sono estremamente pragmatiche, hanno pianificato tutta la prossima settimana, tutto il calendario del prossimo mese è strapieno, però poi vanno alla cieca, non sanno dove stanno andando. Se gli chiedi qual è la loro visione, dove si vedono fra cinque anni, non hanno assolutamente idea, stanno andando a braccio. Ecco allora che riuscire a lavorare bene su questi due aspetti, obiettivi nel breve periodo e obiettivi nel lungo periodo, sono fondamentali per allenare la pazienza di cui stiamo parlando oggi. Assolutamente. Adesso, passando invece al tema del fallimento, che è tra l'altro un tema interessantissimo in generale, proprio per come viene visto e vissuto nella nostra cultura soprattutto e soprattutto quanto è diverso rispetto a come invece viene, come dire, assorbito e implementato anche in altre culture, come per esempio tipicamente quella americana legata al mondo dell'imprenditoria e start-up. Nel libro racconti la storia di quando sostanzialmente hai fatto dei collochi con Google, sei arrivato fino all'ultimo step, hai passato una giornata intera, hai passato delle ore all'interno degli headquarters e nei loro uffici, sei passato sotto il torchio di un numero X di persone diverse per poi sostanzialmente sentirti dire di no. E quindi quello è stato un fallimento tratto dalla tua vita personale che però ti ha aperto delle porte differenti e lo racconti molto bene all'interno del libro. Ora, ti faccio una domanda legata anche al mondo dell'imprenditoria. Quando si parla di start-up si dice spesso fallire veloce per imparare di più, molto più in fretta. Questo concetto secondo te è in contraddizione in qualche modo o in antitesi in qualche modo col concetto di pazienza invece o c'è un modo di farli coesistere all'interno dello stesso insieme? Chiaro. Allora, farei due riflessioni su questa cosa ti dico la verità perché c'è un primo aspetto che è un aspetto culturale che secondo me va tenuto in considerazione e inevitabile. Per anni noi abbiamo provato a scimmiottare la Silicon Valley sull'approccio sulla mentalità imprenditoriale con scarsi risultati anzi molto spesso rendendoci anche ridicoli perché? Perché semplicemente l'Italia non è la Silicon Valley. Non c'è lo stesso contesto non ci sono gli stessi attori non ci sono gli stessi capitali non ci sono le stesse persone e così via. E quindi copiare e incollare la cultura del fallimento di un posto così diverso fai un buco nell'acqua. Quindi io ci vado sempre con le pinze quando devo prendere delle espressioni e darle per buone. No? Quindi fail fast fail cheap come si dice in America in Italia sì ma fino a un certo punto perché non è così no non è così facile in realtà come cosa non solo dal punto di vista legale con tutte le conseguenze eccetera eccetera ma proprio dal punto di vista culturale cioè le aziende le start up hanno proprio delle tempistiche diverse in Italia da diversi anni ormai per esempio io ho smesso di parlare di crescita esponenziale quando parlo di start up italiane ma parlo di crescita sostenibile perché devi puntare proprio a lavorare in maniera diversa quando hai un ecosistema diverso e questa secondo me è una riflessione fondamentale che non possiamo non fare quando si parla di fallimento in Italia ma a questa cosa aggiungo un altro dettaglio per completare la risposta ed è un passaggio che io faccio anche nel libro come conciliare la velocità tipica dell'innovazione e la pazienza di cui invece parlo 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 io anche perché poi io mi occupo di innovazione quindi quella velocità ci sono immerso fino al collo e spesso le persone mi hanno detto Raff ma non è un po' una contraddizione tu fai innovazione di lavoro e poi mi viene a parlare di pazienza secondo me dobbiamo vedere la cosa su due piani diversi è importante essere veloci nel micro è importante essere pazienti nel macro e questo è un passaggio importante che faccio anche all'interno del libro cosa significa? significa che è normale che nella quotidianità io lavoro io faccio esperimenti di lavoro e insegno agli altri come sperimentare è chiaro che tu quando fai innovazione quando fai sperimentazione quando fai start up devi essere rapido nel micro nella quotidianità nell'operatività devi essere paziente nell'attesa dei risultati e questa è la grossa secondo me il cambio di mindset importante da fare cioè non puoi pretendere quella stessa velocità anche nell'arrivo dei risultati a me mi capita mi scrivono ragazzi che ne so che hanno aperto un canale youtube un podcast un twitch qualsiasi cosa e dopo magari una manciata di video caricati mi dicono Raff sono tre mesi che carico video il canale proprio non ingrana io mollo tutto lascio perdere e io mi metto le mani dei capelli simbolicamente parlando dico ma come cioè tre mesi hai caricato una manciata di video e tu molli tutto perché il canale non cresce ma che cazzo ti aspettavi di fare 4 milioni di follower dopo tre mesi che eri su youtube ecco questo no è il tipo di pazienza e velocità che possono andare a convivere quindi io nel micro sono veloce quindi sono costante non mi fermo sono no sono perseverante pubblico video cerco di fare sempre dei contenuti migliori sperimento cose diverse e così via consapevole del fatto che il successo non arriverà dalla mattina alla sera successo se vogliamo chiamarlo così magari ci vorranno anni prima di arrivare a quel risultato ed è questo il motivo per il quale io nel libro racconto tutte quelle storie famose perché ho preso quelle storie di cui conosciamo solo la punta dell'iceberg solo il momento di successo e sono andato invece a ritroso ho voluto raccontare il percorso di quelle persone scrittori scrittrici imprenditori e imprenditrici gente del mondo dell'arte nelle industrie più disparate e raccontare che tutte le loro storie in realtà sono storie piene di fallimenti sono storie con un sacco di cadute porte in faccia non ricevute battute d'arresto e così via che poi hanno portato piano piano al raggiungimento di quello che noi definiamo oggi come successo ma la loro storia è strapiena di fallimenti di errori e di battute d'arresto sicuramente sì sicuramente sì ora collegandomi di nuovo al concetto che ho appena esposto adesso c'è anche però un modello mentale che come dire entra in gioco nel momento in cui tu dici ok io sto dando il massimo sto pianificando sul lungo termine sto facendo tutto quello che posso però per qualche motivo il meglio che sto facendo non mi porta diciamo da nessuna parte sostanzialmente si entra all'interno di quello che come tu appunto riporti nel libro Seth Godin definisce il fossato il deep no in quel momento lì sostanzialmente tu stai dando il massimo stai dando tutto quello che puoi stai magari anche cercando di mettere insieme un piano sai che dovrai continuare a farlo però sei in fondo a questo deep ok e quindi a volte perdi comunque la perseveranza magari potresti perdere la costanza perché dici se davvero tutte le azioni che sto facendo non mi danno nessun tipo di riscontro perché mai dovrei andare avanti quindi il concetto è o la domanda è fino a che punto dovresti andare avanti e quando invece è il momento giusto per potenzialmente fermarsi dato che non stai ottenendo risultati questa è bella e ti dico forse questa è una delle cose più difficili una delle domande più difficili a cui rispondere e non pretendo di avere una una soluzione universale una risposta per tutti dico quello che faccio io quello che solitamente cerco di utilizzare su di me oppure con le persone con le quali lavoro in realtà che affianco diciamo nel mio lavoro io porto da un concetto che è quello di non innamorarsi delle proprie idee secondo me questo è proprio uno step fondamentale per cercare di essere quanto più oggettivi possibili perché secondo me la vera difficoltà è quella lì cioè c'è una linea molto sottile che separa la costanza dalla cocciutaggine no? tu puoi nasconderti dietro la scusa di essere costante e in realtà sei semplicemente cocciuto e stai sbattendo con la testa nel muro su un progetto che non funzionerà mai e che è meglio mollare il prima possibile ecco questa linea secondo me è molto molto sottile e se vuoi c'è una parte di noi che è la parte quella romantica entusiasta che ogni volta che ha una nuova idea pensa di rivoluzionare il mondo dobbiamo bilanciarla in qualche modo con una parte un pochino più razionale secondo me il primo step è quello di non innamorarsi delle proprie idee non trattarli come dei figli e come come fare questa cosa io torno al tema degli obiettivi che secondo me è fondamentale il tema degli obiettivi è il tema dei dati io quando mi rendo conto che sta passando del tempo e non vedo dei risultati cerco di tornare a quello di tornare al dato di tornare agli obiettivi e quindi se all'inizio hai fatto una buona definizione degli obiettivi tu fai quello come riferimento periodicamente hai dei check point mensili trimestrali quello che è e dici oh ma sto progetto come sta andando al di là di quello che sento io e che penso io i numeri cosa mi dicono facciamo questo check periodico che sia mensile o quello che è e andiamo a vedere concretamente se abbiamo fatto dei progressi oppure meno ecco questa parte qui quella degli obiettivi quella del ritorno al dato è la parte analitica di Raffaele che cerca di tenere di bilanciare la parte invece romantica che pensa che tutto sempre è una figata e tutto sempre spaccherà e funzionerà ovviamente questa cosa non è difficile nel senso è facile a dirsi invece è difficile a farsi e mi rendo conto che non può essere una soluzione universale per tutti quanti è il mio modo con il quale cerco di trovare questo bilanciamento se riusciamo a trovare questo bilanciamento secondo me si può evitare di finire poi nella categoria dei cocciuti invece di quelli perseveranti certamente e ascoltà collegato al concetto di pazienza in qualche modo chi è paziente chi persevere ha un atteggiamento che potremmo definire positivo quello che a me affascina però è vedere che molto spesso le persone che ottengono determinati risultati spesso sono anche quelle che hanno un buon rapporto col negativo ok hanno in qualche modo riescono ad assimilare bene le esperienze negative quindi volevo chiederti in che modo secondo te esiste un modo per collegare come dire la consapevolezza delle cose negative che ci possono accadere come appunto effettivamente i fallimenti che potremmo incontrare lungo il percorso e la pazienza stessa ovvero pazienza e negatività in qualche modo possono essere unite possono andare nella stessa direzione allora guarda se riprendiamo il tema che stavamo un po' trattando prima quello del fallimento forse parte della risposta c'era già nella chiacchierata di prima perché come dicevi tu prima noti questa caratteristica nelle persone di successo di riuscire a come dire a estrarre il meglio anche dai momenti negativi mettiamola così secondo me è un po' quella lì la chiave è un po' quella la chiave il fallimento io nel libro dico faccio questo passaggio dove dico proviamo a usare l'espressione insegnamento invece di fallimento no per toglierci proprio questo tabù di dosso del fallimento come un marchio a fuoco come una roba indelebile che ti perseguirà per tutto il resto della tua vita io dico proviamo a parlare di insegnamento cosa voglio dire voglio dire che ogni volta che noi commettiamo uno sbaglio grande o piccolo che sia in realtà quello può essere un momento nel quale noi impariamo qualcosa di nuovo e di conseguenza un momento nel quale noi cresciamo cresciamo come persone cresciamo come professionisti no cresciamo in senso in senso lato se iniziamo a ragionare in questo modo per me l'equazione è veramente molto semplice quando sbaglio imparo quando imparo cresco significa che io per crescere devo sbagliare è inevitabile è così perciò dicevo prima tutte le carriere delle persone di successo sono fatte da una valanga di errori ma attenzione però non è il fatto di sbagliare in sé che ci rende migliori è il fatto di imparare dallo sbaglio secondo me questa è la chiave fondamentale per capire in che modo pazienza e fallimento possono viaggiare insieme altrimenti sono semplicemente uno che fa una marea di cazzate tutta la giornata tutto l'anno e a fine anno dico ah beh io sono fatto così sono uno che fallisce tanto aspetta un attimo devi imparare qualcosa dai tuoi fallimenti il vero fallimento si usa spesso queste espressioni il vero fallimento è quando non hai imparato nulla perché se non hai imparato nulla c'è il grosso rischio che quella cosa ricapiti allora oggi commetti una grossa cazzata non impari nulla ed è probabile che questa cosa la ripeterà magari fra una settimana fra un mese o fra un anno secondo me la fase di analisi è fondamentale infatti nel libro io invito anche a tenere un diario a provare a prendere degli appunti sulle attività che facciamo e così via è una cosa che faccio anche io molto molto frequentemente faccio un errore commetto uno sbaglio di qualsiasi tipo esso sia mi fermo un attimino e provo a dire ma io cosa posso imparare da questa cosa cioè proviamo proprio un attimino a destrutturare quello che è successo ho litigato con un cliente e alla fine ci siamo reciprocamente mandati a fanculo e abbiamo smesso di collaborare ok cosa imparo io da questa lezione cosa è successo qual è stato il processo la telefonata la mail col tono aggressivo la consegna in ritardo la poco chiarezza nel contratto cioè proviamo a capire quali erano gli elementi in gioco proviamo a capire cosa è successo quali sono state le dinamiche che ci hanno portato a quell'errore perché così la prossima volta cerco di evitarlo e allora questo sì che è un momento di crescita è un momento di crescita perché io imparerò a dire ok allora magari quando un cliente mi manda una mail incazzata io invece di rispondere subito a tono faccio passare un paio di giorni così ci rilassiamo tutti e due e provo a rispondere con calma anzi magari invece della mail alzo la cornetta e gli faccio una telefonata così a voce la cosa si risolve più facilmente se posso beccarlo di persona meglio ancora e ne parliamo davanti a un caffè e magari nel contratto cercherò di essere più chiaro su queste cose e così via ovviamente questo è un esempio però per dire dalla fase di analisi quindi dal capire bene perché si è verificato quel grosso errore fallimento o quello che è allora c'è veramente un momento di crescita e secondo me è questa la differenza fondamentale ed è questa la caratteristica come dicevi tu poi di molte persone che sono di successo nei loro ambiti loro hanno un buon rapporto con i momenti negativi perché nei momenti negativi i momenti negativi li trasformano in momenti di crescita riescono a trarne fuori delle lezioni che le rendono delle persone migliori ottimo passando al terzo punto alla terza area di cui volevo discutere vale a dire pazienza e imprenditoria tu sei autore sei imprenditore lavori nel mondo del growth marketing produci un sacco di contenuti tornando ovviamente di nuovo al discorso pazienza secondo te nella tua carriera negli ultimi anni qual è stato il principale risultato di cui sei più fiero che hai raggiunto proprio attraverso l'applicazione del concetto di pazienza in questi anni questa questa è bella questa è bella sai che forse mi era venuto in mente un paio di cose ma forse in realtà il libro in sé potrebbe essere uno di questi obiettivi sai perché? perché io ho iniziato a trattare questo tema nel 2017 se non ricordo male ne parlai per la prima volta un TEDx che era a sua volta ispirato ad un articolo che avevo scritto sul blog l'anno prima quindi nel 2016 il che significa che saranno tipo cinque anni forse anche qualcosina in più che questa cosa della pazienza mi frulla per la testa cinque anni nei quali ho raccolto materiale letto storie biografie aneddoti fonti ricerche scientifiche e così via mettevo insieme mettevo insieme roba non perché volevo scrivere un libro mettevo insieme roba perché mi appassionava l'argomento perché ne iniziavo a parlare tanto anche in azienda con i miei clienti con i miei studenti ma spesso anche nei miei contenuti , accennavo al tema della pazienza e quindi è come se è come se dietro questo libro ci fossero cinque anni di lavoro cinque anni di ricerca in un certo senso e pensa che io volevo pubblicarlo volevo pubblicarlo nel 2019 volevo pubblicarlo contattare la mia casa editrice con la quale ho pubblicato altri libri e gli raccontai quest'idea dissi guardate io ho idea per un libro del genere e loro mi dissero no non siamo convintissimi di questa cosa l'idea non ci piace secondo noi è troppo presto e io all'epoca tra i due fui quello impaziente furono loro ad aspettare e io invece a spingere fatto sta che poi passò del tempo è arrivato il 2020 la pandemia il lockdown eccetera eccetera nell'inizio del lockdown proprio nei primissimi mesi del primo lockdown del 2020 mi si riaccese la lampadina avevamo molto più tempo a disposizione e disse ma forse sai che quasi quasi questo è il momento giusto per mettermi a scrivere quel libro che ho in testa sulla pazienza da un po' di tempo iniziare a scrivere il libro e dopo due tre giorni mi ricordo ero in palestra scena veramente me la ricordo come se fosse ieri ero in palestra mi squilla il telefono era la mia casa editrice che mi fa oh senti Raffaele ma quell'idea del libro sulla pazienza che ci ha raccontato un anno fa ma lo vuoi sempre fare perché secondo noi è arrivato il momento giusto per pubblicarlo e io ho fatto raga tre giorni fa io ho iniziato a scrivere il primo capitolo quindi si sono allineati gli astri e stiamo tutti quanti d'accordo su questa cosa quindi se la guardo in questo modo con cinque anni alle spalle di raccolta materiale approfondimento letture eccetera eccetera ti direi anche questo libro in sé è frutto di un approccio paziente no? di un lavoro fatto veramente come l'ulivo nel tempo sapendo che poi i frutti li raccoglierai molto più avanti ovviamente ho avuto l'aiuto di qualcun altro in questo caso la casa editrice che è stata molto più paziente di me però rientra secondo me assolutamente nella questa categoria è un perfetto esempio secondo me sicuramente sicuramente sì riguardo di nuovo al concetto imprenditoria e pazienza da quando come dire hai metabolizzato internalizzato il valore della pazienza e l'importanza della pazienza nel business anche nell'attività professionale in qualche modo immagino che avrai gioco forza dovuto cominciare a cominciare a dire più no perché in qualche modo essere pazienti vuole anche dire darsi il tempo di decidere consapevolmente di fare delle cose e non farne delle altre proprio per lasciare il spazio al concetto di pazienza nella nostra vita quindi c'è qualche cosa in particolare che hai smesso di fare nel momento in cui hai internalizzato il concetto di pazienza? è una valanga proprio una valanga e hai colto in pieno il punto cioè nel senso ho iniziato a dire di no questa è un po' la chiave ho imparato il valore del no mettiamola così ho imparato che ho capito che quella alla fine è una delle armi più potenti che abbiamo a disposizione ed è collegato ad un altro ragionamento sono riuscito a fare questo cambiamento quindi quello di avere la serenità del dire di no ad un progetto ad un cliente ad un'azienda perché mi sono scrollato di dosso quella paura che le opportunità nella vita passano una sola volta io sono cresciuto proprio con questa ossessione perché mi ricordo gli adulti mi dicevano questa cosa sono stato bombardato ma penso come tutta la mia generazione i treni nella vita passano una sola volta queste frasi così senza senso che dicevano che dicevano un tempo col terrore di devi essere sempre pronto devi sempre farti trovare pronto perché passa il treno tu non ci sei hai perso l'opportunità della vita è una cazzata è una cazzata grossa quanto una casa la vita è strapiena di opportunità è questa la cosa che ho capito a patto di sapersi esporsi a queste opportunità quindi frequentando le giuste persone i giusti posti contaminandosi mettendosi in contesti nei quali le opportunità sono sono frequenti e quindi è stata una conseguenza quella di imparare a dire di no di avere la serenità di dire di no a delle cose perché prima non dicevo mai di no dicevo sempre sì perché diceva però potrebbe essere l'opportunità della vita e poi magari era un progetto di merda e me annoiavo dopo due mesi che ci stavo lavorando sopra adesso invece faccio la selezione mi permetto di dire no con loro non ci lavoro perché non mi piace come lavorano questo progetto non mi convince 100% con loro non siamo allineati in termini di valori e così via il che significa che lavori su meno cose e quindi lavori meglio parlando di produttività lavori meglio hai più tempo per te hai più tempo da dedicare a questi progetti no è un tempo di qualità migliore e così via alzi la sticella di conseguenza no magari prendi tre progetti invece di dieci che però ti pagano come dieci e tu hai completamente rivoluzionato la tua giornata no il tuo modo di lavorare e così via e sono tutte cose strettamente collegate cioè è stato un proprio un effetto valanga no una ha scatenato l'altra e così via certamente sicuro d'accordissimo al 100% su questo punto e ti faccio l'ultima domanda prima di salutarci che riguarda una delle storie nel libro come dicevamo prima racconti una marea di storie differenti e ce ne sono ce ne sono alcune che mi sono rimaste particolarmente impresse se non ricordo male hai raccontato la storia dell'autrice di Pippi Calselumi se non ricordo male molto bella quella super interessante e poi c'è anche un'altra che a me per qualche motivo è rimasta impressa che è quella di Miley Cyrus che prima di diventare di diventare quella che è ha dovuto ha dovuto passare nessuno dei discografi in qualche modo aveva era Kate Perry Kate Perry ah Kate Perry scusami Kate Perry ti lo dico mi è rimasto praticamente impresso perché in tutte queste storie c'è un filo rosso vale a dire tu noi tutti quanti ci ricordiamo molto bene di quel nome di quel libro di quel disco di quel musicista che è diventato famoso in tutto il mondo però ovviamente per qualche motivo poi ci dimentichiamo che c'è anche un pre noi vediamo soltanto la fine vediamo la fine della storia non vediamo mai l'inizio perché ovviamente l'inizio è in qualche modo nascosto piuttosto che le persone ovviamente non lo raccontano apertamente eccetera eccetera e però questo aspetto questa sfumatura secondo me è interessantissima e tu secondo me hai fatto un grandissimo lavoro nel raccontare proprio quel pre e c'è qualcuno di questi pre in queste storie che preferisci rispetto ad altri c'è qualcuno che è rimasto più impresso a te mentre lo stavi assolutamente sì sì io sono l'hai citata tu perché quella di Pippi Calzelunghe lei c'è un nome impronunciabile non me lo ricordo mai comunque è l'autrice di Pippi Calzelunghe Lingstrom una roba del genere la sua storia è veramente fantastica ed è quella che mi ha colpito di più mi ha appassionato di più perché è una di quelle che io non conoscevo è una di quelle che diciamo quelle storie che sono emerse durante la fase di ricerca proprio dentro ce ne sono alcune molto famose Michael Jordan che ne so Steve Jobs veramente strafamose che conoscono più o meno tutti quanti però poi io volevo mettere anche qualche chicca un po' più ricercata un po' meno conosciuta con qualche bel esempio e questo è stato una di quelle che mi ha affolgurato la sua storia è veramente pazzesca perché tutti quanti conoscono il suo prodotto finale Pippi Calzelunghe ma in pochi in realtà sanno chi c'è dietro e soprattutto in pochi sanno la vita piena di ostacoli che ha dovuto vivere lei che ha dovuto passare lei no tutto il mondo gli remava contro ne ha vissuto di tutti i colori ha perso un marito ha perso un bambino ha avuto difficoltà economiche di tutti i tipi sofferto gravi malattie eccetera eccetera e soprattutto quando ha pubblicato Pippi tutti gli adulti gli dicevano questa roba non funziona è da mettere al bando perché questa bambina manda dei messaggi sbagliati no perché era questa bambina rivoluzionaria che faceva un po' quello che gli pare della vita no viveva da sole in autonomia andava contro gli adulti eccetera eccetera quasi anarchica come figura che all'epoca era una cosa proprio scandalosa per immaginatore il pubblico dell'epoca però i bambini l'adoravano e lei faceva proprio una scelta no lei a un certo punto fa proprio una scelta sceglie di mettere da parte gli adulti e dice ok allora io gli adulti li ignoro da domani tutto quello che pensano di negativo su di me perché questa cosa funziona per i bambini lei l'aveva scritta per la figlia che era gravamente malata e diceva se la storia di Pippi può fare agli altri bambini lo stesso effetto che ha su mia figlia allora il mondo ha bisogno di Pippi Calzelunghe e come messaggio è potentissimo torniamo di nuovo a un messaggio di lungimiranza lei è partita con tutti quanti contro sapendo che prima o poi avrebbe visto i risultati di quel progetto e ora Pippi Calzelunghe è tradotto in più di cento lingue se non ricordo male no in tutto il mondo sono usciti serie tv film gadget e che più ne mette forse è una delle icone pop più riconoscibili in assoluto e secondo me come storia di perseveranza come storia di pazienza come storia di costanza questa è veramente potentissima e bellissima si pure a me questa è rimasta proprio impressa assolutamente è stata super interessante ti ringrazio tantissimo Raffaele grazie mille siamo arrivati al termine di questa bellissima chiacchierata ti ringrazio per il tuo tempo e spero che ci potremo sentire molto presto grazie a te dell'invito Simone e grazie ovviamente a tutti quelli che poi sono rimasti fino alla fine ad ascoltare noi due chiacchiare sul tema della pazienza buona continuazione a tutti grazie mille ci sentiamo ciao ciao grazie mille